Con che razza di soggetti abbiamo a che fare? Un gruppo di criminali con delle capacità molto insolite. Utah, ci serve una pista. Perché non aprire il paracadute sulla giungla e scappare come un qualsiasi criminale? Perché non sono criminali qualsiasi, signore. Io penso che, come me, le persone dietro queste rapine siano atleti di sport estremi. Che usano le loro capacità per destabilizzare i mercati finanziari. E se ne fregano di chi ci rimette la pelle. Mi chiamano Boki. Ce l'ha fatta. C'è qualche miliardo di dollari in oro laggiù. Volete rubarlo? No. Vogliamo liberarlo. Da che parte stai? Devo incastrare Boki prima dell'impresa finale. Altrimenti se ne andrà. Boki! Fermo! Moriremo tutti. L'importante è decidere come. Boki ha idea di quante persone hai ucciso? Di quante leggi hai violato? L'unica che conta è quella di gravità. No! Sapevate che il nuovo Joker, cioè Jared Leto, è vegano? E che è stato fidanzato per due anni con Cameron Diaz? Cliccate qui accanto per rimanere con me. E oggi vi lascio con una citazione che è un po' difficile questa volta. Vediamo chi la indovina. La citazione è Il migliore amico del ragazzo è sua madre. Vediamo chi indovina. Ciao!